Fa ancora discutere esponenti politici e cittadini la decisione adottata l'8 agosto scorso dalla Giunta regionale che autorizza il prelievo selettivo, di fatto l'abbattimento, di circa 500 cervi in due aree dell'Aquilano a partire dal prossimo 14 ottobre. Tra le motivazioni, il fatto che gli esemplari risulterebbero numericamente in forte eccesso, causerebbero danni all'agricoltura e costituirebbero un rischio per la sicurezza stradale. Nei giorni scorsi a più riprese, le associazioni animaliste ed ambientaliste si sono schierate contro una decisione che tradisce un modello di educazione ambientale e di tutela della biodiversità, scrive il WWF, faticosamente delineato negli anni. Lo stesso WWF ha lanciato una petizione che in appena tre giorni ha raggiunto quasi le 25.000 firme. Per il PD si tratta di una scelta violenta e sbagliata, sulla stessa lunghezza d'onda anche i commenti di Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle e, a sorpresa, anche del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, che ha annunciato di voler valutare ogni possibile alternativa all'abbattimento. Le dichiarazioni di Pagano per Confagricoltura, che oggi interviene sull'argomento, sono incomprensibili. Quelle dei partiti di opposizione sono invece le solite litanie per un quarto d'ora di notorietà. Questa volta si deve andare fino in fondo, afferma il presidente regionale di Confagricoltura, Fabrizio Lobene. Abbiamo perso troppo tempo andando dietro alle paturnie di questi sacerdoti dell'ambientalismo metropolitano, che bloccano ogni iniziativa di buonsenso ed in linea con leggi e regolamenti, in barba e in danno, continua, dei cittadini danneggiati dagli incidenti stradali, degli agricoltori costretti ad abbandonare la loro attività in vaste aree interne e dei bilanci regionali. A stretto giro arriva anche il commento di Cia Abruzzo, la Confederazione Italiana Agricoltori, che non entrando nel merito dei metodi utilizzati nel provvedimento, ribadisce l'importanza di ristabilire un equilibrio sostenibile tra le attività agricole e la conservazione dell'ambiente. Grazie a tutti.